C'è tra di voi l'usanza che per la Pasqua io vi liberi un prigioniero, uno scelto dal popolo. Voi, il popolo di Gerusalemme, dovrete decidere chi di questi due condannati a morte volete che io vi liberi. Gesù di Nazareth, oppure Barabba? Barabba! Barabba! Gio Viva, Gio Viva! Gio Viva, Gio Viva, Gio Viva! Gio Viva l'uso di giù e spara l'uso di Stasi ok broware. Devei l'usanza che riuscano. Gio Viva, Gio Viva ma si per la Pasqua io vi dò che ho vito a riusi. Gio Viva! Grazie per la visione!